Prima di oggi ma marca male, oggi marca male. Vedo che ho cambiato posto, poco più in su ho trovato questo bel bombotto. Adesso qua c'è lui, anche lui bello, sono tutti un po' patissi dal vento però sono tutti belli sani. Ma quello lì non era solo perché guardate qua che si nasconde, guardate qua che portato che c'era, che si è andato a nascondere. Altro posto, oggi non so quanti chilometri facciamo, il problema è che facciamo in macchina perché siamo ancora alla ricerca del posto giusto, però questo è un bocciotto spettacolare. Facendo il retro marcia con la portiera aperta per andare giù dalla riva. Ma forza! Ma tutti ci sono i piedi! Eh perché c'è più bagnato un piatto che non capito. Guarda! Ma guarda, ma cosa c'è alle palle? Alle palle, alle palle, sì sì. Guarda, guarda un po' come... Guarda! È un atto, è un atto! È un atto, questo è un atto, è un fungazzo! No, finalmente abbiamo beccato la costa giusta, dai. Un bel fungo. Bello. No, tanto non ti senti. Ancora bianchi sotto, eh, Henry. Questo è un bel fungo. Sì sì. Porca che bello! Vediamo qui sotto se c'è qualcosa o no. Però, bello. Che funghi, ragazzi! Sì, proprio bombe queste. Guardate qua che meraviglia della natura! Che spettacolo! Madonna, che belli! Io filmo e Henry mi viene a rubare i funghi. Eh, sta venendo fuori adesso qua. Sentiero. Funghi spettacolo. Che funghi! Che funghi, ragazzi! Ma non è finita perché qua sopra c'è un altro spettacolo. Che bello! Però qui sei già al sud di costa? Sì, eh, perché manca i pianori attaccati al torrente e vengono appena riescono, poco più sopra. Insomma, i funghi erano sul sentiero, sul torrente qua, niente da fare. Sì, no, ma poi magari se piatti un po' questo sentiero... No, guarda che bombette! Questo intonso sembra perfetto. Eh, infatti, non ha... Eh, vabbè, dai. C'è un buchino lì, ma che spettacolo, ragazzi. Vediamo un po' com'è questo qua. Voilà, scivolo. Eh, mangiato dall'insetto, purtroppo. Eh, però, un bel gambone. Sì, un po' maciullato dall'insetto, un po' tanto, però dai, va bene. Sempre sul sentiero oggi. Madonna, che spettacolo che è questo. Vale, ci sono tutti gli aghi dei ricci che pungono. Sì, disegnato, spettacolare. Sì, disegnato, spettacolare.